Località Roccamontepiano, provincia di Chieti. Qui c'è la fonte e la grotta di San Rocco, dove avviene il 16 agosto l'antico rito dell'Abruzio. Andiamo! Inquadriamo l'acqua sacra. Il rito dell'Abruzio è un antico rito che si pratica a fin dei tempi preistorici, un rito che è mutuato direttamente dall'antica religione tradizionale romano-italica al cristianesimo. Qui, ovviamente, è un rito legato oggi a San Rocco, il santo che guarisce dalle pestilenze. Quindi è sempre un rito legato alla guarigione e alla purificazione.